Tu ti ricordi come si chiamano questi fiorellini? Come si chiamano? Sono I... Illa No, I-C I-C Cicla Mili Bravo Non 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 ... Autore dei sovrapposti Autore dei sovrapposti Autore dei sovrapposti Ascoltami Antonio, perché non te la do la cioccolata? Secondo te, vediamo Perché oggi sono scappato e poi dopo sono stata bella di caffè Ecco, e quindi voglio dire, siccome la cioccolata è un premio È un qualcosa che io ti do quando tu ti comporti veramente bene da uomo Eh, eh Questo atteggiamento secondo te è un atteggiamento corretto? Eh no È da premiare questo atteggiamento No Patrizia E allora non me la devi chiedere la cioccolata? Ah ho capito, quando me la dai adesso? Io te la do quando tu ti comporti da persona adulta